Musica Scendiamo in piazza per difendere e tutelare i nostri posti di lavoro, i pescatori accesi ricevuti questa mattina dal sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Gettonopoli, Aci, Catena, 11 consiglieri comunali coinvolti, il GUP del Tribunale di Catania ha rinviato l'udienza. Inaugurate questa mattina due sedi del Baby Pistop ad Acireale, luoghi accoglienti per mamme e bambini per cambio pannolino e allattamento al seno. Ben trovati con il nostro Tg Reporter, tra gli altri argomenti del nostro giornale. Oggi giornata decisamente importante per i lavori di abbattimento dell'ecomostro sulla Timpa, cerimonia di consegna dei lavori che poi di fatto verranno avviati tra due settimane. Abbattimento che sarà effettuato entro il mese di febbraio, così come previsto dal contratto stesso con la ditta. Tra gli altri argomenti del nostro giornale parleremo poi dell'atteso incontro questa mattina all'IPAB Oasi Cristo Re tra i lavoratori e il commissario straordinario dell'ente Donatella Milazzo che però non ha portato buone nuove da Palermo se non l'annuncio che si sta lavorando alla nomina del nuovo CDA della struttura. E poi tra le altre iniziative anche l'avvenimento San Paolo della Croce, la diocesi di Acireale si prepara per l'accoglienza. Questo è l'altro all'interno del nostro giornale, in primo piano la protesta della marineria, non solo quella accese. I pescatori accesi ricevuti questa mattina al Palazzo di Città. Scendiamo in piazza per difendere e tutelare i nostri posti di lavoro. I pescatori accesi lo hanno ribadito questa mattina nell'antisala consigliare al Palazzo di Città dove sono stati ricevuti dal sindaco Roberto Barbagallo, invitato a interagire con il prefetto per lo stato di disagio e malcontento causato appunto dalle normative errate o restrittive in materia di pesca marittima. E attualmente in vigore è stato sostenuto dalla rappresentante dell'Associazione Pescatori Italiani Stefano Pennisi, attualmente consigliere comunale ad Acireale, un complesso di raccomandazioni e regolamenti comunitari in materia di pesca che di fatto impongono obblighi e divieti importanti per la pesca nel Mediterraneo. Norme che comportano pesanti restrizioni, soprattutto per le imbarcazioni dedite alla pesca artigianale di pesci spada, tonno bianco e rosso. I pescatori in movimento è un comitato spontaneo che nasce dal basso, dalle marinerie, per la rivendicazione del diritto al lavoro. Purtroppo il settore è stato interessato, soprattutto negli ultimi mesi, da provvedimenti pesanti che ci penalizzano sia rispetto a quello che è il nostro lavoro, sia rispetto a quello che sono anche i concorrenti europei ed extraeuropei. Quindi la rivendicazione è quella delle norme che ci permettano di lavorare nella piena legittimità ed onestà. Questo è il primo passo, viene fatto ai comuni, interessando il primo cittadino con la richiesta di interagire presso il prefetto. Stessa cosa verrà fatta giorno 3 con le autorità marittime per poi sfociare nella manifestazione generale a Roma giorno 15. Abbiamo trovato la piena disponibilità del sindaco che addirittura subito e immediatamente senza pensarci ci ha appoggiato e addirittura ci ha detto che farà il biglietto per venire a rappresentare i suoi concittadini giorno 15 a Roma. Piena solidarietà a tutti i pescatori a questa protesta che inizia oggi e si conclude, si porta avanti fino al giorno 15, credo che ci sarà una protesta a Roma, qualora il ministero, in questo caso il sottosegretario, andranno indietro rispetto a delle norme che a quanto pare non sono state concordate con le sighe sindacali, con i pescatori e che arregano danno alle nostre famiglie, alle nostre attività produttive. Un sindaco non può non essere vicino al proprio cittadino, ai propri pescatori, da tantissimi anni svolgono questa attività, io capisco che ci possono anche essere delle regole dettate alla comunità europea, però bisogna prima discuterle, parlarle, trovare possibilmente delle soluzioni che non danneggino la pesca e l'intero comparto, la piccola pesca, in questo caso parliamo della piccola pesca, che hanno magari 3-4 dipendenti a bordo, nella nostra area sono tantissimi, sono nella maggioranza. Circa 800 le persone interessate nella sola manineria accese, che conta un'ottantina di imbarcazioni distribuite tra Citrezze, Santa Maria la Scala e Pozzillo. Lo stato di disagio e malcontento lo si evince dalle parole di uno dei pescatori di Pozzillo. Noi in questi due mesi tramite la comunità europea abbiamo avuto il fermo pesca, il divieto pesca alla pesca del pesce spato e poi quest'anno il sottosegretario Castiglione aveva firmato un decreto pure per il fermo della pesca delle ala lunghe e del palangaro derivante. Infatti noi qui siamo tutti quanti pescatori di palangaro e non potremmo andare a mare in questi due mesi non è la pesca dei pesce spati e neppure quella delle ala lunghe, ma siccome in questi due mesi viviamo solo di mare e di palangaro, ci troviamo in difficoltà perché è giustissimo il decreto che lui propone perché con questa scusa sopravviveranno milioni di pesce spatini e di donnetti, però almeno cercare di avere un indennizzo, un qualcosa per aiutare sia gli armatori sia i pescatori per sopportare le famiglie, i figli e tutte queste cose. Adesso spazio alla cronaca, lui arrestato per droga, la madre denunciata per furto di energie elettriche è successo a Daci Sant'Antonio, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato nella flagranza il ventenne Emanuele Torrisi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti denunciando la madre, 49enne, per furto aggravato. I militari sono entrati in azione nell'abitazione del pusher dove hanno rinvenuto e sequestrato 30 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, pronte allo smercio e due bilancini elettronici di precisione. Nell'occasione i carabinieri hanno accertato che la madre, proprietaria dell'appartamento, aveva allacciato il contatore privato alla rete elettrica pubblica. Ricorderete ieri l'operazione Target, oggi un latitante si è costituito negli uffici della squadra mobile di Catania. Si tratta del pregiudicato Gaetano Pocoroba. Si era sottratto nella giornata di ieri all'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari nel corso dell'operazione appunto denominata Target, che ha portato in carcere 17 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia e ancora favoreggiamento personale e reati in materia di falso. Adesso il Pocoroba, che risponde ai reati di furto aggravato e ricettazione, in dato odierna si è presentato negli uffici della squadra mobile di Catania e si è dunque costituito. Adesso invece riflettori sull'ecomostro della Timpa. Questa mattina consegna dei lavori, si avvia dunque l'iter che porterà entro il prossimo mese di febbraio all'abbattimento di questo ecomostro. Da anni è considerata l'opera incompiuta di Acireale quello che resta di una struttura alberghiera i cui lavori vennero sospesi nel 1989. L'ecomostro, progetto della Loa Mar, albergo di lusso ideato da Pietro Foti, che non venne mai realizzato, adesso si parla di abbattimento della struttura e questa mattina la consegna dei lavori che avranno inizio tra 15 giorni per una durata di 90. Il costo totale dell'operazione è di 150 mila euro. Un atto ufficiale dopo diverse avventure relative alla burocrazia perché sono stati fatti tantissimi atti propedeutici all'inizio vero e proprio dei lavori alla consegna del cantiere, quello che di fatto sta avvenendo oggi. Per questo mi corre l'obbligo ringraziare veramente il Genio Civile di Catania, la persona del dottor Gabriele Ragusa, la Procura della Repubblica con cui siamo stati veramente sin dall'inizio. Abbiamo avuto la volontà e la determinazione giusta per arrivare al risultato. Ringrazio anche l'assessorato alle infrastrutture che ci ha concesso anche un contributo. Sapete bene che la demolizione avverrà con delle risorse del comune e dell'assessorato in danno alla ditta, quindi sono risorse che poi verranno recuperate. Stiamo cercando di rispettare i tempi proprio perché dobbiamo iniziare il più breve tempo possibile per poi finire entro il 28 febbraio che è la data ultima che l'assessorato territorio e ambiente ci dà per la demolizione dell'ecomostro. Non possiamo che come amministrazione, penso tutti come cittadini, essere contenti perché stiamo finalmente dopo 30 anni forse più eliminando una bruttura nella nostra timba. Come detto in Consiglio Comunale, già abbiamo avviato un'azione importante su un altro ecomostro che è quello di Pozzillo e speriamo che entro il 2017 riusciamo anche lì a intervenire e da eliminare quello che è un problema e un pericolo alla salute pubblica di tutti i cittadini. Presenti alla cerimonia i responsabili del RUP, l'ingegnere del Genio Civile Paolo Foti e Alfio Carciotto, il titolare della ditta Raimondo Salomone e il direttore dei lavori, l'architetto Antonio Nicolosi. La prima fase appunto, da oggi c'è la consegna dei lavori, entro 15 giorni c'è l'impresa per legge, deve fare il concreto inizio dei lavori, dopodiché c'è la prima fase della sistemazione dell'area di cantiere, noi abbiamo acquisito come stazione appaltante, l'ufficio genicida di Catania, abbiamo acquisito delle aree private sia per l'impianto dell'area di cantiere sia per l'accesso attraverso una strada privata asfaltata perché la via Pianetto è molto stretta quindi i mezzi pesanti non possono transitare, abbiamo fatto una convenzione temporanea, quindi sistemazione dell'area di cantiere, poi messo in sicurezza prima del fabbricato da demolire, dopodiché una volta fatte queste opere preliminari importanti si inizierà la fase di demolizione vera e propria del fabbricato, verrà montata una gru a torre con uno sbraccio, questo è uno sbraccio di almeno 51 metri, quindi che consentirà appunto il sollevamento del materiale che verrà demolito tutta a mano il fabbricato con previo messo in sicurezza del fabbricato, quindi gli operai saranno sul fabbricato e demoliranno man mano l'edificio e poi il materiale verrà sollevato con questa gru a torre e poi portato in discarica autorizzata. Entro febbraio la struttura in cemento dovrebbe essere abbattuta. Un'imponente operazione come abbiamo sentito dunque dalle parole del direttore dei lavori con questa gru che opererà nel cuore della timpa nei prossimi mesi. Ma adesso invece ci occupiamo della Gettonopoli-Catenota, 11 i consiglieri comunali coinvolti, il gruppo del Tribunale di Catania ha rinviato l'udienza di alcune settimane tra il 24 novembre e il primo dicembre prossimo. A poche ore dalla decadenza del Consiglio Comunale di Acicatena riemerge agli onori della cronaca il caso Gettonopoli scoppiato lo scorso aprile a seguito di indagini nate da un esposto presentato dal senatore del... Adesso cambiamo decisamente argomento, inaugurate questa mattina ad Acireale due sedi del cosiddetto Baby Pit Stop. Vediamo. Un cambio pannolino e un pieno di latte, il tutto alla massima velocità. Il Baby Pit Stop prende il nome dalla Formula 1 ma è promosso dall'Unicef per creare, dei luoghi accoglienti dove le mamme potranno diventare un tutt'uno con i propri bambini. Questa mattina ad Acireale l'inaugurazione di due Baby Pit Stop al Centro Direzionale Comunale, settore pubblica istruzione in Via degli Olivi e al PTA di Via Martinez. Abbiamo voluto creare questi presidi in città, uno qui al consultorio e l'altro in Via degli Olivi dove ci sono gli uffici comunali dove tante mamme con bambini accedono per chiedere servizi proprio per creare un ambiente favorevole che sostenga l'allattamento al seno. Un progetto che l'Unicef propone in tutta Italia nell'ambito dell'iniziativa Ospedali e Comunità Amici dei Bambini che si pone come obiettivo l'allestimento di 1000 Baby Pit Stop Unicef. Un modo per stare con il proprio bambino ma anche per incentivare l'allattamento al seno, il modo migliore di nutrire il neonato nei suoi primi mesi di vita. Rientra nel piano nazionale dell'Unicef dell'allattamento al seno che è un piano in realtà internazionale in cui noi siamo impegnati da 70 anni a questa parte a sostenere proprio questa pratica che è una pratica importantissima per iniziare bene la vita. Noi riconosciamo al latte materno anche un'altra caratteristica, quella di essere un vero e proprio vaccino per iniziare nel migliore dei modi la vita. L'allattamento immunizza, l'allattamento per i primi tre mesi realmente rende il bambino pronto a quelli che possono essere degli attacchi patologici. Lo protegge moltissimo e poi crea un bellissimo rapporto con la madre che qualunque donna mi creda desidera. Il sindaco di Giarre, Angelo Danna e l'amministrazione comunale unitamente al presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri comunali esprimono cordoglio alla famiglia Di Maria, alla moglie Rosa e ai figli Danilo e Diana per la scomparsa del grande ufficiale Alfio Di Maria, cittadino onorario giarrese che con i due premi Giara d'Argento e Alfio Russo ha portato il nome della città di Giarre a superare i confini della regione fino a raggiungere traguardi nazionali e internazionali. E' scomparso infatti il grande ufficiale Alfio Di Maria. Giarre perde un suo rappresentante, dichiara il sindaco Danna, che ha dato tanto lustro alla città. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, tra poco. Le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Adaci Reale Concept Store in Corsa Italia 122. Adaci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, oltre 34 anni d'ottica. Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, per info 095 604883. Che mi ti ci serve? Un'auto usata? Che cosa mi vuoi? Un'auto seminuovo o un'auto nuova? Convenienza e garanzia. Unicar! Oh, ecco qua una famigliola. Le signore ha scelto il posto giusto per cambiare sulla macchina. Questo glielo dico io, l'iterio. Non me lo dici a me che io sono il proprietario? Ah, perché l'è signor Carcione? Signor Carcione sono, sì. E chiedo, scordavo. Perdone. Unicar! Il piacere di guidare. Se stai cercando una location suggestiva per il tuo matrimonio, per festeggiare momenti importanti, compleanni, lauree, anniversari o per eventi, meeting, conferenze, Palazzo Romeo. Vicino al gusto di chi ama il bello, accanto a chi vuole per i suoi ospiti solo il meglio. Palazzo Romeo. Una storica dimora nel cuore di Aci Reale. Moderna nelle finiture e nel concepimento di banketing, con una elegante sala interna e con allestimenti esterni tra il verde, i fiori e le fontane. Cornice ideale di un giorno unico. Palazzo Romeo. Fissate un appuntamento per visitare la struttura alla 339 73 810 36. Ad Aci Reale, in Piazza Madonna del Suffragio 15. Palazzo Romeo. La festa. Alla Euroform sta per iniziare un corso per la qualifica professionale di collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative. Le iscrizioni al corso di 680 ore si chiudono il 15 novembre. Ai partecipanti che raggiungeranno almeno il 70% di frequenza tra aula e stasi in strutture alberghiere o di ristorazione, verrà riconosciuta un'indenità giornaliera di 4 euro. Il collaboratore polivalente trova impiego in strutture ricettive o per la ristorazione. Possono parteciparvi persone in età lavorativa in cerca di prima occupazione o disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. Per info e iscrizioni Euroform. Via Martinez 5 a Cireale, telefono 095 80 00 26 o euroformacireale.it. La proposta formativa è finanziata dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupazione in Sicilia. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettori e soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti e da oggi possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in legno e il preventivo senza impegno. Presso il parco commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Teatro stabile Dio Cireale, una nuova stagione di prosa in musica. Tanti straordinari artisti per emozioni indimenticabili. Sister Act con Belia Martin, Carlo Bucci Rosso, Ugo Pagliai, Enrico Guarneri, Pippo Pattavina, Gabriel Garco, Giovanna Criscuolo, Pino Strabioli, Rosalia Porcaro, Edoardo Guarnera. Abbonati anche tu! alle emozioni. Riflettori sull'IPAB Oasi Cristo Re. Questa mattina tensione alle stelle durante l'atteso incontro tra il commissario dell'ente Donatella Milazzo e i lavoratori. Tensione alle stelle perché stanchi di aspettare in vano il pagamento di uno stipendio, un'operatrice che poco prima tra l'altro ci aveva rilasciato anche delle dichiarazioni che adesso sentiremo, è salita sul balcone del tetto e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Insomma, momenti di grande tensione per lavoratori che sono ovviamente sofferenti e stanchi di questo disagio che stanno vivendo ormai da troppi mesi. Vediamo. Tensione alle stelle all'interno dell'IPAB Oasi Cristo Re al punto da richiamare l'intervento dei carabinieri. È successo durante l'atteso incontro questa mattina tra i lavoratori e il commissario della struttura, la dottoressa Antonella Milazzo, chiamata a dare informazioni sugli esiti degli incontri avuti e sulle risposte, se pervenute, dalla Regione alla richiesta di chiarimenti ai quesiti avanzati. Ma intanto, come detto, la disperazione dei dipendenti a secco di stipendi da troppi mesi è cresciuta a dismisura. Lo conferma la testimonianza raccolta con una operatrice sanitaria dell'IPAB, Venera Greco. Io non so che cosa sono queste cose. Io so soltanto una cosa che un paio di mesi fa avevo chiesto al direttore amministrativo, il commissario straordinario, che avevo bisogno di una mensilità perché ho problemi di famiglia e me l'hanno negato. Ora sono sotto il vottunio che ho qua all'Oasi Cristo Re, mentre che lavoravo ho un trauma nella spalla e non ho soldi per comprarmi il tutore e in più devo fare gli accettamenti. Ora loro a me mi devono dare una mensilità perché oggi faccio succedere l'ira di Dio. Quanti mesi sono di ritardo? 27 mesi più la tredicesima. Ora cosa devo fare io? Chiamo i carabinieri a costura, a finanza. Poi ditemi cosa devo fare. Io mi devo fare gli accettamenti. Loro mi devono dare i miei soldi. Il faccia a faccia tra dipendenti e commissario intanto non ha fatto registrare altre novità. Il commissario, invitato più volte sia dai lavoratori che dalle rappresentanze sindacali a verificare se il caso denunciare eventuali anomalie nell'avvenuta fusione dell'IPAB Penisialessi-Allegra-Fresta, a scapito proprio dell'Oasi Cristo Re, ha allargato le braccia. Ho fatto una lettera di richiesta di carimenti all'amministrazione. La richiesta è rimasta, per quanto mi riguarda, direttamente inascoltata. So che è stata data una risposta all'onorevole Foti. Però queste sono valutazioni che escono soltanto dal dire che si fa una fusione perché ci sono delle valutazioni economico-finanziarie che non inducevano, devo dire la verità, a pensare che una fusione potesse risolvere il problema dell'Oasi. Di questo punto di vista qua è un ente che ha bisogno di liquidità, di pagare stipendi, non di mettersi altri debiti o altre situazioni. Fin qui dunque il commissario, poi l'incontro ovviamente è proseguito e a quanto pare i lavoratori hanno comunque richiesto l'interessamento dello stesso commissario a che la Regione possa valutare che questo progetto di fusione previsto per due IPAB passive del territorio possa interessare anche l'unica struttura attiva operativa sul territorio accese che è appunto l'Oasi Cristo Re. Quindi vedremo adesso l'evolversi della situazione successivamente nei prossimi giorni. Parliamo d'altro. Domani sera alle 18.30 da Cicatena incontro pubblico sul tema l'impegno politico tra legalità e sviluppo. Il tutto nella sala conferenza dell'ex cinema Savoia in via 4 novembre appunto ad Acci Catena. Introdurrà i lavori Nello Oliveri, portavoce della lista con Oliveri per Acci Catena, già sindaco della città. Modererà il dottor Enzo Dagata, già consigliere provinciale. Relatori saranno l'avvocato Enrico Trantino, presidente della Camera Penale di Catania e l'onorevole Nello Musumeci, deputato all'Ars, presidente della Commissione regionale antimafia. Lavori consigliari invece questa sera ad Acci Sant'Antonio, alle ore 19, l'orario di convocazione. Il Consiglio è chiamato ad adeguare il costo di costruzione per l'anno 2017, confermare gli oneri di urbanizzazione approvati con delibera di giunta. Lavori consigliari anche ad Acci Reale si continua con le interrogazioni e le interpellanze dei consiglieri. Una tornata questa che è già cominciata nella scorsa seduta. Sentiamo. Dopo l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, i lavori dell'ultima seduta di Consiglio ad Acci Reale sono proseguiti con la prevista tornata di interrogazioni, interpellanze e emozioni con risposta immediata da parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. E tra queste interrogazioni c'erano anche quelle del consigliere Giuseppe Ferlito, che ha puntato l'attenzione su due questioni. La prima riguardante i contributi dei dipendenti comunali, che spesso non vengono versati all'Inps dai comuni, come denunciato dall'Iscuazione Sicilia, sono circa 300 su 390 i comuni non in regola in Sicilia, andando incontro così a procedimenti penali. Per fortuna però il comune di Acci Reale rientra nella minoranza virtuosa, e questo è un aspetto positivo. Dove non rientra invece Acci Reale è tra le smart cities d'Italia, ed è proprio in questa direzione che si è mossa la seconda interrogazione consigliare del consigliere Ferlito. Un nuovo decreto sul codice dell'amministrazione digitale, attuativo dell'articolo 1 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso agosto, rivoluziona infatti il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche. I cittadini così potranno accedere ai servizi pubblici con un unico nome utente e password, per avere un domicilio digitale, attraverso il quale inviare e ricevere dalla pubblica amministrazione comunicazioni e documenti per via digitale. Dal 1 gennaio 2018, dunque, tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni saranno accessibili tramite Speed, il nome di questa nuova ed innovativa piattaforma digitale nazionale, già operativa ad esempio nel comune di Reggio Calabria. Ecco, la proposta del consigliere comunale Giuseppe Ferlito è proprio questa, anche Acci Reale diventi una smart city, simbolo di efficacia, trasparenza e semplificazione. Stasera, intanto, il consiglio comunale si riunisce nuovamente alle 19, per proseguire le interpellanze e interrogazioni, già cominciate la scorsa seduta. A causa di lavori Enel, lunedì prossimo, dalle 8 alle 15, ad Acci Catena, potrebbero verificarsi di servizi idrici nelle zone di Acci Catena Centro, Cubisia, Santa Lucia e via Vittorio Emanuele. E adesso invece parliamo dei percorsi condivisi di legalità, percorsi promossi dall'ufficio di pastorale sociale della Diocesi che coinvolgono anche Libera e l'Associazione Libera Cittadinanza di Acci Reale, percorsi che intendono favorire il confronto e la sensibilizzazione sul territorio tra gli studenti delle scuole superiori di Acci Reale sui temi riguardanti la legalità, con l'ausilio dei referenti alla legalità dei vari istituti. L'iniziativa verrà presentata domani mattina nell'Istituto Galileo Ferraris di Acci Reale. Oggi invece alle 19, nella chiesa parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù in via Paolo Vasta ad Acci Reale, avrà inizio il triduo di preparazione alla festa di Gesù Bambino di Praga. Domani sera, durante la messa, sarà amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi. Parliamo d'altro domani sera alle 20, parliamo adesso di un evento teatrale, al Teatro Bellini di Acci Reale, in programma la performance teatrale e artistica dal titolo Cesso di Amarti, l'amore al tempo dei social. In scena gli attori Gabriele Vitale, Bruno Gatto, Ilenia Giuffrida e Clara Cirignotta. La cooperativa Il Gruppo Libero Movimento Artistico invece presenterà domani alle 18, al Palazzo del Turismo di Acci Reale, il libro di poesie dal titolo Le urla degli invisibili del dottor Antonino Filippello. Acci Reale intanto si prepara all'accoglienza del Corpo di San Paolo della Croce. Nell'occasione sentiamo il messaggio del Vescovo Monsignor Raspanti. Tutto pronto per l'accoglienza nella Basilica Cattedrale di Acci Reale del Corpo di San Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti, istituto religioso che ha predisposto la visita della Salma presso la Basilica Cattedrale, prevista per domenica 30 ottobre. Una peregrinazio che farà tappa in tutte le diocesi presenti in Sicilia. Aspettando l'arrivo della reliquia, il Vescovo Monsignor Antonino Raspanti manda un messaggio rivolto a tutti i fedeli. Giunti alla conclusione dell'anno giubilare straordinario della misericordia, si legge nella lettera, la visita delle sacre reliquie è un ulteriore sprone a vivere e sperimentare la misericordia di Dio, che risplende in modo del tutto singolare nell'esperienza dei Santi. Anche noi abbiamo bisogno di annunciatori forti e miti, continua Raspanti, che portino a tutti la gioia del Vangelo, che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. La visita di San Paolo della Croce ci confermi sempre più in questa opera di evangelizzazione e ottenga alla nostra Chiesa diocesana copiosi frutti di bene. Il corpo di San Paolo della Croce resterà esposto per la venerazione dei fedeli domenica 30 ottobre e la mattinata del lunedì seguente. Diverse le iniziative di preghiera che accompagneranno la presenza della reliquia, tra cui una messa pontificale presieduta dal Vescovo della Diocesi Monsignor Antonino Raspanti domenica alle ore 18.30 ed una messa solenne presieduta dal Cardinale Paolo Romeo lunedì alle ore 10.30. Alle 12 invece preghiera conclusiva e saluti. Altri due appuntamenti da ricordarvi prima di chiudere. La SOGIP ricorda che domani a causa di lavori Enel al Pozzo Guzzi a Scillichenti sarà interrotta l'erogazione idrica dalle 8 alle 13 nelle frazioni marinare di Santa Tecla Stazzo, Pozzillo e appunto Scillichenti. Iniziative culturali questa sera invece alle 19 nel salone dell'Associazione Costarelli in Piazza Duomo ad Acirale verranno presentati i volumi acqua e il frammento mancante della prof. Daniela Trovato. Interverranno il preside Alfonso Sciacca, la professoressa Carmelina Spitaleri, l'editore Giuseppe Pennisi e appunto l'autrice. E adesso andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Cielo coperto, pioggia prevista per buona parte della giornata. Temperature in netto calo comprese tra 18 e 20 gradi. Mare molto mosso. Ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. TG Reporter torna domani alle 13 e 40. Arrivederci. Grazie a tutti per la seconda. www.aumentari.com Aumentari.com aete Aumentari.com aumentari.com